Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti alla bottega didattica per il fai da te nell'artigianato digitale oppure potrei anche dire i video tutorial più lunghi del web, almeno in italiano oggi volevo presentarvi alcune funzionalità interessanti di due applicazioni una senz'altro molto conosciuta, Bitly, e l'altra che non saprei come pronunciare ma dovrebbe essere Google, che sono due servizi in gran parte gratuiti anzi quello di Google penso sia del tutto gratuito, che consentono di abbreviare gli indirizzi dei siti web l'URL dei siti web, URL, Uniform Resource Locator andiamo a vedere più esattamente quali funzionalità che a volte non si conoscono io perlomeno alcune non le conoscevo, le ho apprese preparando questo tutorial dicevo, alcune funzionalità di queste applicazioni, di questi utility sono free o in gran parte free, servono per abbreviare appunto un indirizzo vengono definiti shortna, è nato anche un orribile verbo italiano che si chiama shortare o che si pronuncia shortare per indicare appunto l'atto di abbreviare l'indirizzo di un sito dicevo che Bitly presenta anche una versione a pagamento più completa ma già la versione gratuita a cui si accede registrandosi presenta interessanti caratteristiche sono facilissimi da utilizzare nella loro funzione primaria, accorciare un URL consentono di archiviare gli indirizzi che abbiamo accorciato e ci mostrano anche le statistiche di questi indirizzi quest'altra caratteristica non è certo propria di questi programmi semplicemente ho dimenticato di cancellarla perché ho copiato e incollato questi sono i rischi del copia e incolla quindi andiamo avanti che consentono anche una condivisione immediata del nostro indirizzo accorciato nei principali social tipo Twitter, Facebook e così via inoltre possiamo scaricare o installare i bookmarklet o le estensioni per il nostro browser che ci facilitano molto le operazioni vediamo adesso a cosa servono bene, servono per condividere più facilmente dei documenti per esempio dei file, dei siti, delle pagine, dei video, delle immagini e così via servono a rendere più facilmente memorizzabile l'indirizzo di un sito o di un documento per esempio guardiamo per esempio questo documento questa è una presentazione che ho realizzato per un corso di storytelling a Udine potete osservare che è complicatissima, certo non mi posso mettere a dettarla, la posso magari condividere via mail insomma è molto brutta, è molto scomoda guardate qui sotto possiamo anche memorizzarla facilmente perché Bitly per esempio offre questa funzionalità permette cioè di personalizzare o la genera automaticamente avremo quindi un indirizzo molto breve ma composto da lettere e numeri disposti un po' a casaccio difficilmente memorizzabili avremo la possibilità come ho fatto io qui di personalizzarlo storytelling Udine così mi ricordo che è una presentazione tratta dello storytelling che è quella che ho fatto per un corso di Udine bene, come vedete insomma è una gran comodità vediamo adesso come funzionano questo è Google non so come si pronuncia Google dovrebbe essere vi accediamo digitando appunto go.gl naturalmente se siamo già allogati al nostro account Gmail o Google Plus o Google accediamo automaticamente senza bisogno di dover effettuare il login stavo per dire loggare bene come vedete qui abbiamo tutta una serie di link piuttosto lunghi che ho generato precedentemente e vedete qui il link accorciato cosa posso fare? ingrandiamo per vedere meglio vedete posso copiare ecco qua mi avvisa che ho copiato e posso condividerlo su Twitter su Facebook e via dicendo oppure posso indice tre puntini verticali posso generare un QR code eccolo qui posso nascondere questo questo link ecco adesso è nascosto possiamo anche esaminare i dati statistici per vedere chi ha cliccato sul nostro link ecco qui vedete questo l'ho appena messo abbiamo due due clic sono i soliti dati statistici di Google quali piattaforme si sono collegate per visualizzare questa pagina questo link eccetera eccetera torniamo indietro e vediamo adesso ovviamente la cosa più importante mi procuro un bel link lungo lo incollo qui vedete quanto è lungo è un link di una presentazione realizzata con Google presentazioni e adesso clicco su accorcia all'urne qui posso copiare è già generato l'indirizzo vedete qui posso copiare l'indirizzo corto oppure mi accontento di questo dico fatto ed ecco qua abbiamo il nostro indirizzo appena realizzato è questo qui copiare vedete i dati statistici eccetera quindi come si vede è molto semplice se vogliamo installare l'estensione dobbiamo recarci su Google Play chiedo scusa volevo dire Google Chrome Web Store eccolo qua andiamo un po' per vedere meglio selezionato estensioni digitiamo gu.gl eccolo qua l'aggiungo posso anche cliccare per vedere meglio cosa succede tutte le caratteristiche insomma basta aggiungerlo è gratuito aggiungi l'estensione poi la possiamo rimuovere quando vogliamo cliccando su quest'icona automaticamente genereremo un link per esempio andiamo non so qui proviamo a generare il link eccolo qua copio il link qui i dettagli qui il codice QR vediamo il codice QR ecco questo è il codice QR come si vede è tutto molto semplice andiamo adesso a vedere il più forse noto e utilizzato almeno dal 2007 2008 se non prima bit.ly ingrandiamo io mi sono già collegato abbiamo anche la funzionalità di archiviare i nostri link ma adesso questa non la prenderemo in esame vediamo come funziona bit.ly io sono già registrato mi sono logato questo è molto semplice qui abbiamo un menu e vedete che ho la possibilità di inserire realizzare generare insomma fino a 10.000 link accorciati e il mio traffico mensile è di 500 se non mi è sufficiente devo passare alla versione premium qui abbiamo i setting e quindi la configurazione clicchiamo su setting e vediamo social sharing condivisione tramite social ecco io posso collegare il mio account twitter il mio account facebook a bit.ly in modo da poter condividere cliccando un pulsante in modo immediato senza dovermi collegare ogni volta a twitter o a facebook il mio link accorciato quindi genero link accorciato e poi lo condivido senza dovermi dover entrare in twitter e in facebook lo condivido da bit.ly su questi social network bene queste sono le cose essenziali che volevo mostrarvi possiamo vedere ritorniamo alla ecco qui alla grandezza normale questi sono dei link che ho generato per ogni link cosa posso fare ecco posso copiarlo posso come vedete condividerlo su twitter o su facebook automaticamente adesso devo autorizzare bit.ly usare il mio account facebook adesso io lascio stare e queste sono le operazioni che posso fare vediamo come si genera adesso un link prendiamo il link di prima quindi una presentazione con un link piuttosto lungo e clicchiamo su crea un bit.link si apre questa finestra e vedete qui devo incollare l'indirizzo l'indirizzo è incollato a questo punto non mi resta che come ho fatto cliccare un po' veloce troppo velocemente cliccare su crea e vedete ho un titolo che posso modificare ho un percorso o un indirizzo personalizzato che è già più facilmente memorizzabile rispetto a quello di prima posso però anche personalizzarlo per esempio bit.ly rimarrà a bit.ly slash ma qui posso scrivere per esempio applicazioni storytelling che è più lungo di quello di prima ma magari è più facilmente memorizzabile oppure posso scrivere che so app storytelling che è un po' più breve ma insomma è qualcosa di facilmente memorizzabile qui posso aggiungere anche dei tag tecnologie digitali insomma le solite cose a questo punto posso salvare vedete mi sta avvisando che questo indirizzo è già stato preso quindi ovviamente non posso utilizzarlo quindi lo cambio scrivo storytelling adesso marini è chiaro che non ha molto senso scrivere un indirizzo così lungo ma è giusto per mostrarvi ecco qui l'ha preso perché nessuno ha precedentemente selezionato un simile indirizzo eccolo qui il mio nuovo indirizzo app storytelling marini che sarebbe il mio cognome ecco come vedete è estremamente semplice in questo modo anche a voce forse lo ricordano bene l'esigenza di condividere con gli altri ormai è un'esigenza che si attua online cioè noi condividiamo o appunto con i social network o con il nostro blog o con la mail e così via se non si ha la possibilità di condividere in questo modo si può condividere creando un proprio spazio che possiamo gestire in cui possiamo inserire i lavori le risorse che intendiamo condividere con gli altri per esempio senza dover gestire un blog cosa che non è complicata si va di bene ma può anche non essere l'ideale per qualcuno poniamo una bacheca Pinterest vediamo se riesco a ecco qui queste sono le mie bacheche Pinterest io cosa posso fare se ho delle risorse che voglio condividere e dirò ai miei colleghi o ai miei studenti andate nella mia bacheca nelle mie bacheche Pinterest basta che cerchiate il mio nome Gianfranco Marini e qui troverete una bacheca per esempio che si chiama Terza C oppure che si chiama Colleghi Brozu il nome della mia scuola oppure che si chiama quello che volete voi adesso non la creo entrate in quella bacheca e troverete i link alle risorse con una breve descrizione di quello che andrete a trovare cliccando sui segnalibri questo ovviamente è un video di Luca Reina eccetera eccetera ecco quindi potrebbe essere un modo per alternativo a quello che abbiamo indicato della dell'abbreviazione degli indirizzi per condividere facilmente risorse che io voglio condividere ma non ho la possibilità di pubblicare in un blog un posto o di avere la mail dei colleghi perché me ne mancano di mail non voglio andare a rintracciarle insomma i mille motivi gli dico andate digitate Pinterest Gianfranco Marini li trovate una bacheca colleghi del Brozu e trovate le risorse che vi potrebbero interessare posso fare questo lavoro anche con Padlet creo un bel Padlet e faccio appunto questo lavoro oppure dicevo Simbalu quindi per riassumere come alternativa possiamo creare un nostro spazio usando questi servizi gratuiti e dando indicazione alle persone interessate di recarsi presso il nostro account Pinterest o Padlet o Simbalu e cercare la tale bacheca il tale Padlet eccetera bene sono riuscito ad arrivare quasi a 14 minuti ancora una volta sono riuscito a realizzare una video tutorial estremamente lungo l'onore è salvo vi saluto e vi auguro una buona giornata e vi auguro